Chi è nato e cresciuto in Cina ne ha una nostalgia terrificante e anche chi è stato un po' in Cina gli manca tantissimo. Si chiama huo guo che vuol dire pentola calda, in inglese infatti si chiama hot pot, è un piatto fantastico, ti mettono una pentola appunto calda in mezzo al tavolo con l'acqua bollente dentro, infatti in italiano si chiama fonduta cinese anche se c'è l'acqua invece del formaggio e spesso la pentola è divisa in due e quindi sono due tipi di brodo in genere uno piccantissimo e l'altro a gusti diversi a seconda di quello che scegliete. Poi vi portano della roba cruda, voi la sbattete dentro, la pucciate dentro fino a che non è cotta e poi ve la magnate, consiste in questo. Da un po' qua vicino a Bologna sono nati dei ristoranti che fanno specificatamente quello e quindi con un po' di cinesi che avevano una certa nostalgia ed italiani che ne avevano ancora di più, siamo andati a provare. Huo guo è la tipica fonduta cinese e questo secondo me è uno dei locali che la fa meglio, siamo a Bologna in via 100 300 e il locale si chiama Carnivore Union. Ha anche un nome cinese, ma aspettiamo... ma tu capisci cosa c'è scritto lì? Lan Ren Shao. Lan Ren Shao. Allora sì, la persona pigra Lan Ren. Lan Ren. Shao Kao Shao. Spiedini. Ah, gli spiedini della persona pigra? Come potrebbe essere? Spiedini. Eh. Se tu fai video eh, mi raccomando. Sì, sì, mangerò un'altra volta. Non mangiare. Questo viene morbido, viene col colore bocchiala e buono. Sono un po' arruggini. Proviamo dai. Eh? Non lo prende. Bologna. Sono un po' arruggini. Sono un po' arruggini. Solo io sono quello strano che non mangia zappe di gallina e intestino. E le verdurine miste. Verdurine sono tantissime. Allora com'è finora? Sto facendo la carne piccantissima. La cameriera l'ha considerato di non prendere. Questo lui ha voluto fare l'errore. Proviamo. Questa è la cosa più piccante che possa esistere sulla carne. È vero. Tutta una volta. Sta cominciando a salire, scusa. Piccante? Devo dire. È molto piccante, ma riesco ancora a respirare. È solo un fattore mentale, è solo un fattore mentale, è solo un fattore mentale, è solo un fattore mentale. Sto continuando a salire. Dolore. Dolore sulla lingua, Picasso. Ho bisogno di protezione civile. Quello era uno, ce ne sono altri dieci. Cosa? Ragazzi si può morire più per dose di capsicina. La cultura cinese è talmente bella che se fossi non cinese mi sarei innamorato. Mi stai innamorato. Ah, il biancospino? Ma dai. Ti devo dare sciolini. Cosa ridi? C'è uno vicino a me. Nooo. E quindi? E poi ha chiamato... Allora, noi siamo all'1B. Comunque polleggiatissima Bologna in quest'ora, che bello. Comunque polleggiatissima Bologna.